tele mater in stretta collaborazione con i canali cattolici di tele pace tv 2000 vi porta ora i migliori programmi del papa francesco in vaticano le informazioni dall'italia e dal mondo e più recenti programmi di catechesi a formazione teologica spirituale della nostra chiesa cattolica italiana tele mater cari amici del quince e benvenuti al programma tele mater quince la televisione cattolica italiana d'america io sono nicola signorello direttore del tele mater quince e con me il padre volto a tolanotto direttore spirituale di tele mater invitiamo tutti gli italiani del quince a seguire i nuovi programmi di tele mater sul canale 56 della time on a cable quince public television che andranno in onda ogni lunedì alle 10 del mattino e verranno ripetuti alle 11 30 del mattino di martedì invitiamo tutti gli italiani a sbagliare la voce e di farci compagnia ogni lunedì e martedì mattina qui al quince public television nel canale 56 di time on a cable carissimi amici benvenuti ai programmi di tele mater carissimi amici benvenuti ai programmi di tele mater carissimi amici benvenuti ai programmi di tele mater non siamo giunti sulla soglia del mistero di dio potremmo già da questoci entrare nel vivo del catechismo della chiesa cattolica nel compendio per esaminare gustare il credo della chiesa cattolica però preferisco una ultima un po più breve tappa a forma di preghiera perché se una catechesi non fa prodare la preghiera non è catechesi è semplicemente un ragionamento culturale magari anche di tutta dignità ma la catechesi non può che essere poi preghiera e allora mi permettete di esprimere una preghiera così come mi è sgorgata dal cuore e che intitolo così preghiera di chi sta sulla soglia del mistero o dio giunto ormai sulla soglia del tuo infinito mistero dopo aver impegnato la mia mente nella elaborazione delle argomentazioni che concordemente acclamano la tua esistenza dalle profondità del mio essere sgorga spontanea la preghiera di una creatura che se non fosse in te neppure esisterebbe o dio della mia vita scrutando il mio essere nella complessità di corporeità e spirito di materia di trascendenza vi scorco il sigillo di una benevolenza che supera ogni mia possibilità di rendere adeguatamente grazie a te sono consapevole che potevo non esserci e invece esisto in te tu mi hai voluto nel tuo arcano e provvidenziale disegno di creazione attraverso l'amore coniugale dei miei carissimi genitori mi hai voluto unico al mondo altro da tutti gli altri clone di nessuno reincarnazione di nessuno e come me hai tratto dal nulla gli infiniti esseri umani di ogni tempo etenia nazionalità li hai voluti tu ad uno ad uno comunque siano stati generati dal momento in cui sono stati generati tu ne sei il creatore e tu te ne prendi cura con particolare attenzione riservata a coloro che non contano nulla e sono ritenuti spazzatura della società li conosci nelle profondità del loro essere nei pensieri e nei sentimenti più nascosti l'intero loro essere è in te e solo in te che ne sei il creatore ognuno come fosse unico al mondo davanti a te e in te creando l'uomo e la donna aperti alla trasmissione della vita hai raggiunto il vertice della creazione che cose di più stupendo dell'essere umano dell'essere maschio o femmina potevi creare con il salmista ogni persona umana può esclamare mi hai fatto come un prodigio ci hai creati a tua immagine e somiglianza dotati di mente razionale fatta per la verità di volontà attuativa di bene di libertà guidata dal senso della responsabilità ci hai fatti persona umana un io inconfondibile e nello stesso tempo aperto per un bisogno vitale alle relazioni con tutto ciò che esiste con le persone che condividono l'esistenza e persino con te come relazione originante di tutte le altre relazioni e ci hai fatti tutti per te come precisa sant'agostino immettendo in ciascuno un innato e irresistibile desiderio di infinito cioè di te anche quando cerchiamo l'infinito fuori di te da oltre la soglia del mistero della tua trascendenza ci attrai a te come la calamita il ferro e ci attendi trepidanti anche perché non vuoi costringere nessuno ad accoglierti ad amarti tu vuoi essere accolto e amato liberamente volontariamente responsabilmente tu vuoi che io ti cerchi come la sorgente della mia felicità tu sei la mia gioia o dio tu sei il mio dio fin dall'aurora io ti cerco ti cerco come fondamento e come senso ultimo del mio essere del mio vivere io percepisco che senza una struttura di relazione con te io sarei solo polvere nell'atto stesso di percepirmi essere questo io che io sono percepisco anche te come sorgente del mio essere appunto perché mi percepisco non in balia del vuoto del non essere come sospeso su un burrone ma ancorato saldamente al mio punto di consistenza abbarbicato alla roccia della mia vita tutto il mio essere grida la tua esistenza sono venuto dunque al mondo per conoscerti e riconoscerti come mio creatore mio assoluto per familiarizzare con te scoprire il tuo volto accoglierti in me e anticipare la vita che con te sono chiamato a fare oltre il tempo insomma se voglio trovare me stesso mi rendo conto che è necessario che io mi decida lasciarmi incontrare da te dopo averti cercato e rintracciato o dio del cosmo ti cerco e rintraccio i segni della tua presenza proprio in quella creazione nella quale mi trovo immerso e di cui sono parte e che mi segnala l'oltre che si trova nel loro essere creato dalle stelle al sole alle piante agli animali e come se ogni creatura mi dicesse non fermarti a me oltrepassa ciò che vedi di me in me scorgi il mio creatore solo allora anch'io sarò felice poiché assolverò il mio compito quello di essere una segnalazione del suo essere tu che sei armonia tutto hai posto nell'esistenza con ordine e armonia tutto hai creato come assoluta razionalità ogni elemento e l'insieme degli elementi tutti al loro giusto posto come fossero parte di un unico immenso organismo ogni più piccola cosa è già un microcosmo c'è un mondo ordinato di spettacolare bellezza da ogni singolo atomo che compone nella sua straordinaria varietà l'universo intero in cerca continua di sempre nuovi spazi fino all'occhio e cervello e così di microcosmo in microcosmo fino al macrocosmo l'intera creazione che a nessuno mai sarà dato di conoscere interamente pur essendo essa stessa delimitata e non infinita e tutta la tua creazione nella sua articolazione di atomi molecole cellule di essere inanimati animati fino agli esseri umani tutto è una composizione floreale uscita dalla medesima mano di artista tutto è davvero un sistema in sistema un immenso sistema di sistemi tra di essi intrecciati organicamente uno dipendente dall'altro in una sequenza indefinita tu ne sei l'artefice tu ne sei il logos la ragione suprema e nulla appare affidato al caos o al caso tutto svela la sua finalizzazione tu hai finalizzato ogni cosa a partire dal big bang perché tutto avesse un senso cioè una direzione fino al compimento della creazione che è l'uomo maschio e femmina per così dire hai studiato tutti i minimi particolari delle possibili evoluzioni nulla ti è sfuggito tutto hai previsto e preordinato con successioni a concatenazione e nella tua potenza di creatore tutto disponi perché all'accadere delle condizioni le infinite potenzialità immesse nell'atto creativo delle tue creature potessero trovare attuazione tu ne sei la forza finalizzatrice perché ne sei anche il fine mai all'uomo stesso anche in equip sarà concesso di decodificare tutto della creazione essa in gran parte manterrà rinserrati nel suo grembo i suoi segreti noti solo a te che ne sei la ragione definitiva originaria nell'atto stesso di porre e di mantenere in esistenza tutte le tue creature tu in definitiva sei il perché di tutti perché il perché dell'esistere dell'evolversi in una direzione piuttosto che in un'altra il perché della terra questo scrigno di bellezza e di funzionalità posizionata in modo incredibilmente perfetto rispetto ad altre realtà create come il sole e la luna perché fosse possibile la vita umana grembo appunto della vita umana che ha necessità di acqua con le sue immense riserve di luce di calore di aria di nutrimento tratto dall'humus di protezione dei raggi ultravioletti tutto come segno del tuo invisibile abbraccio quotidiano le tue creature predilette come sono le persone umane tutto è predisposto per l'uomo perché avesse una casa degna della sua altissima nobiltà con l'incanto dei suoi orizzonti con le sue montagne le pianure i deserti le foreste i fiumi i laghi i suoi venti le piogge la neve e l'hai affidata alla sua amministrazione perché traendone risorse per il suo vivere ne conservasse l'equilibrio ecologico e non se ne appropriasse come un avvoltoio che si butta sulla preda il tuo patrimonio consegnato nelle mani delle tue creature di tutte le tue creature e non solo di pochi quale atto di fiducia in tal modo hai voluto educarci ad intercettare la tua misteriosa presenza nelle tue creature senza senza importi con la tua presenza divina sfolgorante perché ad ogni uomo fosse data la gioia di trovarti dopo averti cercato sia pur a tentoni come il tesoro più prezioso della loro vita o dio della bibbia tu non hai permesso che le tue creature predilette rimanessero avvolte dalle nebbie dell'incertezza tu hai voluto svelare il mistero della tua vita divina e in esso il mistero della vita dell'uomo che hai creato a tua immagine insomiglianza tutta la sua dignità dipende dalla tua realtà se tu ci sei e sei l'assoluto anche l'uomo porta in sé impresso una dignità assoluta non negoziabile tu ne sei l'autore il difensore e poiché di te parla soprattutto la bibbia che svela l'identità dell'uomo e la sua dignità somma la bibbia documenta la tua esistenza come baluardo estremo della dignità di ogni persona umana tu hai seguito passo a passo le vicende dell'evolversi della storia umana fino a chiamare abramo per farne il padre di una moltitudine di popoli che credessero in te come unico dio tu hai eletto un popolo quello ebreo da cui sarebbe nato il messia e tutto hai svelato del suo agire per mezzo dei profeti degli autori sacri tu sei il vero soggetto protagonista della bibbia che come sole di verità illumini le misteriose profondità dell'essere umano e gli abissi del suo cuore dal tuo esistere dipende tutto l'esistere la qualità dell'esistere dell'uomo anche di chi non ti conosce o si rifiuta di riconoscerti o dio padre di gesù cristo il mistero dell'essere umano nelle sue origini nel travaglio del suo esistere sulla terra come preparazione preludio del suo esistere in te oltre la barriera della morte trova la sua chiave di soluzione nel tuo figlio fatto uomo morto per crocifissione risorto per l'umanità credente il tuo figlio dono supremo del tuo amore assoluto per noi uomini è la verità fatta persona sul suo essere verità tu hai creato ogni cosa e in lui ha il suo parametro di verità lui ci ha parlato di te come di una realtà personale con cui era in continua comunicazione per gesù tu non sei un oggetto su cui speculare filosoficamente lui ti sente padre senza di te neppure lui sarebbe non poteva ingannare noi che crediamo in lui lui che è la verità lui ci rende certi che tu ci sei anzi ci ha rivelato chi sei tu per noi chi siamo noi per te e poiché vivendo come lui è vissuto e come lui ci ha insegnato a vivere la nostra vita di uomini raggiunge la sua sublimità di perfezione senza cedimenti a illusioni siamo ancora più certi che è la verità e che dice tutta la verità quando parla dell'uomo ma ancora prima quando parla di te è lui poi che ci hai inseriti in una comunità di credenti immessa nell'alveo della storia com'è la tua chiesa che documenta senza equivoci la tua esistenza o dio della chiesa di cristo tu sei la sua ancora di salvezza se essa non avesse te come sua forza da tempo fin dall'inizio del suo esistere sarebbe inabissata chi l'ha salvata da violentissime persecuzioni e avversità che come turbini impetuosi sono scatenate contro di essa di secolo in secolo se non tu che l'hai voluta di questa chiesa io sono membro e in essa ho trovato tutti i mezzi di salvezza questa tua chiesa santa cattolica apostolica sta nella storia a testimoniare la tua presenza salvifica universale ad essa hai fatto dono di tutti gli strumenti di bordo che servono per far approdare l'umanità redenta il porto della salvezza eterna come strumento efficace di comunicazione con te anch'io in questo momento come membro della tua chiesa ho la certezza di essermi messo in comunicazione con te nella via comunicativa della preghiera del resto a chi avrai rivolto la mia preghiera questa mia preghiera confidente se tu non ne fossi il destinatario certo reale nell'atto stesso del pregare in me si verifica la certezza di una comunicazione con qualcuno che non solo mi ascolta ma più in radici ispira a me stesso che cosa comunicare a questo qualcuno che mi trasende dal quale io mi lascio ispirare sperimentando una gioia delicatissima una profondissima pace interiore proprio nel mettermi in comunicazione confidenziale con te e nel pregare ti percepisco come la vera soluzione di tutte le possibili incognite anche di quelle che io mai vorrò verrò a conoscere o dio tu mi hai aperto gli occhi della mente per scorgerti presente nei segni della tua creazione della tua parola ora donami gli occhi della fede con cui io possa vedere come vedi tu nel tuo verbo di verità ogni cosa creata fammi partecipe della fede apostolica di cui hai costituito la tua chiesa profeta maestra ammiraglio e testimone che io possa accostarmi con umile disponibilità adorante al deposito del patrimonio di fede che hai affidato alla tua chiesa e che il magistero ha il compito di custodire intatto e di annunciare integralmente agli uomini di tutti i tempi perché vengono a conoscere le profondità del loro essere un mistero che solo nella trascendenza del tuo mistero di amore trinitario trova il motivo di essere di vivere e di sperare oltre il tempo del vivere terreno non più ingolfati nelle sabbie mobili del dubbio ma aperti al mistero dal quale ogni uomo trae origine e dignità non solo di creatura ma persino di figlio del figlio o Dio di infinita sapienza e misericordia dopo averti cercato riconosciuto sia pur velato e amato di un amore che proviene da te che io ti possa vedere faccia a faccia e vivere in te come pienezza di senso del mio esistere in te Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La nostra comunità Esplorando comunità italiane a New York A cura di Nicola Signorello Buongiorno amici di Telemater Bentrovati ed ecco che siamo arrivati all'ultima settimana del mese di aprile Se siete stati con noi nelle scorse puntate abbiamo parlato della vocazione Che cos'è la vocazione? La vocazione è una chiamata del signore Nella prima puntata abbiamo ascoltato la testimonianza di Monsignor Renato Grasselli che è il rettore del seminario Redentore del seminario Redentoris Matta del Cani in Jersey Come lui ha sentito la chiamata questa è la mia risposta che gli ho fatto e naturalmente ci ha dato una risposta L'avete ascoltata la scorsa settimana poi abbiamo parlato con i due seminaristi Nicola e Michele che anche loro hanno raccontato la loro esperienza L'amico e diacono Vigginzo Lagamba ci ha raccontato che la sua prima vocazione è stato il matrimonio Il matrimonio con la sua moglie Isabella Però dopo un po' di tempo, dopo tanti anni felici sposati Il signore l'ha chiamata nuovamente E l'ha chiamata di diventare diacono per la diocesi di Brooklyn E' stata veramente una vocazione molto bella perché come avete sentito nella scorsa puntata Scusate, è felicissimo per il lavoro che fa anche insieme con sua moglie Beh, oggi mi trovo insieme a quattro oblate Quattro, signore vorrei dire, che si sono dedicati alla missione del Signore La missione che hanno chiamato a loro Vicino a me abbiamo una oblata che molti di voi conoscete già E' Giuditta Coccia Che molti di voi conoscete tramite la Radio Maria Con i suoi programmi che fa E naturalmente Anche quando è stata sempre con noi da moltissimo tempo, è vero? Sì, sono Giuditta Coccia Sono nata a Roma I miei genitori erano Umbri E avevo un fratello un po' più grande di me Sono nata, cresciuta Al tempo della guerra Però nella mia famiglia I miei genitori Sono stati sempre presenti nella nostra vita E ci hanno dato tanto, tanto esempio Abbiamo studiato Abbiamo avuto la possibilità Nell'estate di andare in vacanza Al mare E soprattutto A Norcia Dove era nato mio padre E ci siamo tanto divertiti Con la bicicletta E poi più grandi con la lambretta Siamo andati dovunque E io ricordo Che godevo tanto Amo l'Umbria La terra di mio padre E la terra dei santi Abbiamo Vorrei fare una domandina Quando l'ha sentito La chiamata del Signore? Faccio presto No, no, no È importante Dove è nata Come si è cresciuta Ma nello stesso tempo Qual è stata la sua chiamata? Appunto Mentre godevo della natura Mi veniva da ripetere Le parole La rietta Di Pietro Metastasio Dovunque il guardo giro In mezzo Dio ti vedo Nelle opere Nelle opere tue ti ammiro E ti riconosco in me E la ripetevo La ripetevo E mi dava tanta gioia Tanta soddisfazione E sentivo La presenza Di Dio in me Frequentavo La scuola Privata Vedevo Le suore Dell'istituto Dove stavo Che erano Molto Molto Chiaro Intanto Ero quasi Dieciottende E era un segreto Per me Però avevo Una mia amica E compagna Di scuola Che è un'oblata Come me oggi Cioè da tanti anni E un giorno Mi disse Io ho un direttore Spirituale E parlo molto Dei miei desideri Parlo molto Della mia vita Futura Io dissi subito Posso conoscerlo Anch'io Mi accompagnò E andammo Andammo A Piazza Venezia La chiesa Della Madonna Di Loreto Entrando in chiesa C'erano due Tre persone Erano in fila Per confessarsi E io Attesi Mi confessai Non avevo mai visto Questo sacerdote E ricordo sempre Era il mercoledì Santo Mi confessai E mi disse Figlia Ha mai pensato Al suo futuro A quale stato di vita Il Signore la chiama Io subito Sì Poi ero timida Ho detto Non è più un segreto Lo posso dire Dentro di me Naturalmente Credo Che il Signore Mi chiama A consacrarmi A Lui A queste parole Monsignor Giacquinta Allora era Don Guglielmo Forse aveva Neanche 40 anni Mi disse Bene Ne parleremo Insieme Vedremo Quello che il Signore Vuole veramente Da lei Ero felice Finalmente Non era più Un segreto Ma era un segreto Era un segreto Perché il sacerdote Non avrebbe detto A nessuno Ma non era più Un segreto Perché sapevo Che qualcuno Lo sapeva Comunque Mio padre Era funzionario Del Ministero Delle Poste E molto spesso Veniva inviato In varie Città D'Italia A rappresentare Il Ministero Delle Poste Durante i concorsi Io avevo sempre La valigetta pronta Ero sempre pronta Ad andare con lui Dissi al mio fondatore Cioè Al mio confessore Io avrò la possibilità Di andare a Foggia Quindi Andrò A vedere Padre Pio Con tutta calma Mi rispose Figlia Si confessi Figlia Gli dirà Parli Con il suo direttore Spirituale E faccia Quello che il direttore Spirituale Gli dirà Io andai Partecipai Alla messa Mi confessai Dissi Quali Erano I miei desideri Qualche cosa Signore Credevo che Si aspettasse Da me E mi disse Faccia Quello Che il direttore Spirituale Le dirà Poi Andai In sagristia Mi carezzò Mi sorrise E mi benedisse Lo ricordo Come se fosse ieri Così Devo dire Che il mio Confessore Fu un profeta Perché veramente Quello che mi disse Si ripetette Insomma Avvenne E per molti anni Mi sono lasciata Guidare Consigliare E scegliere La vocazione Una vocazione Secolare Io dall'inizio Pensavo Una vocazione religiosa Ero stata Solo esposta A quella Avevo visto Le suore Mi piaceva Come Sembravano Attente Come veramente Vivevano La loro vocazione Comunque Una vocazione Da vivere Nel mondo Da essere Nel mondo In mezzo Al mondo Ma non Del mondo Vorrei chiedere Una domandina Quanti anni È oblata? Più di 50 E lo rifarei Dal primo giorno Molto grazie Naturalmente Qual è il lavoro Delle oblate? Che fate? Se posso dare un'idea Io sono stata Impiegata statale Ho lavorato All'immigrazione Poi sono stata Trasferita qui Negli Stati Uniti Ho lavorato All'immigrazione Ho lavorato In nostre case Di ospitalia Ho lavorato In una scuola In California Come segretaria Bookkeeper E non conoscevo Ancora la lingua bene Lingua inglese Italiana E come sapete Fa radio A Radio Maria Carissimi amici Abbiamo Un'altra Oblata Qui con noi Che lo conosco Da moltissimo Tempo Però È da moltissimo Tempo Che non ci vediamo Più Non so il perché Giovanna Piccioli Quanti anni È Oblata Sono più di 50 anni Più di 50 anni Allora Ci racconti un po' Della sua chiamata Quando Io ero molto Come una mia famiglia Ho due fratelli E quattro sorelle Siamo sette figli E quindi eravamo molto felici Di stare insieme Avevo nella parrocchia Un sacerdote Che era molto bravo E mi andavo E mi andavo a confessare Da lui Un giorno Lui mi disse Non hai mai pensato A darti al Signore Io rispondo Oh no 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 Io mi voglio sposare Ma mi mise Nella mente Un'idea E io cominciai A pensare Circa questa vocazione Così Quando Decisi Poi Andai a parlare Con il signor Giacquinta Lo stesso Fondatore Del movimento Presentitati Che era molto amico Nel parroco Della mia parrocchia E allora Io Andai a parlare Con lui E poi Lo dovevo dire A mia mamma Mio padre Era già morto E mia mamma Le disse Se questo È la volontà Del Signore Tu devi seguire La volontà Del Signore E quindi Io andai A Collioblate Che ormai Sono diversi anni Che Insomma Che sto in questo istituto Dopo qualche anno Il fondatore Ebbe Un invito Dal vescovo Della California Di portare Un gruppo Di oblate In California E io fui Una delle prime Eravamo quattro Che andammo in California Senza conoscere la lingua E pensavamo Solamente Di lavorare Così Per Le suore Insomma Di non Di Non pensavamo Di fare Quello che poi Ci venne detto Che dovevamo Andare Di insegnare Una scuola Cattolica Io non ero Insegnante Un'altra mia Consorella Non era insegnante Un'altra Neanche Solamente Una Aveva insegnato In Italia Ma Il fondatore Ci disse Se voi Non ve la sentite Ritorniamo In Italia Noi ci mettiamo Insieme E decidemmo No Rimaniamo E da allora Siamo rimaste In California Il Signore Ci ha sempre Aiutato Ha fatto Io penso Ha fatto Dei miracoli Per noi Perché insegnare A bambini Senza conoscere La lingua È una cosa Un po' difficile Ma il Signore Ci ha veramente Aiutato Poi Sono andata In diverse parti In California Poi sono tornata Qui a Brooklyn Sono ritornata In California E ora A Brooklyn Dove Dove ha lavorato? Ho lavorato In un In In un Immigration Office Un'officio Di immigrazione Per diversi anni E quindi Ho conosciuto Molti italiani Che Poverini Non parlavano italiano E quindi Avevano tanto bisogno Di una persona Non sapevano l'inglese E quindi Per diversi anni E poi Quando sono andata In California Invece Lavoravo Come insegnante E poi Sono ritornata Qui a A Brooklyn E ora Mi trovo qui In Flushing Allora La mamma Gli ha detto La ripeta Se questo È quello Che il Signore Vuole Tu devi Seguirlo E lei Con una brava figlia Ha seguito Quello che ha detto Il Signore Bravissima Non mi sono mai Cambiate l'idea Neanche 50 anni 50 anni Come a Blata Allora Vi conoscete Da tanto tempo Sì Da tanto tempo E c'è un altro Un altro Blata ancora Che non è qui oggi Che vi conoscete ancora Angela Abbiamo fatto La professione Insieme Con Angela Ecco Angela la conoscete voi Lavorava Giù in Brooklyn Nel L'ufficio Dell'immigrazione Pure Però è occupata Oggi Lavora Perciò Non può essere Con noi Un'altra Oblata Questa Oblata Carissimi amici Non so come pronunziare Il nome Ma lo pronuncio Lo stesso Maria Kuti 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 Che è un Oblata Da quanto tempo? Più di 35 anni 35 anni Sì Dici la tua storia Mi chiamo Maria Kuti Sono nato In India Kerala Ho quattro sorelle Un fratello Mio padre Morì 25 anni fa Mia madre 5 anni fa La mia famiglia È stata Sempre religiosa Ogni sera Tutte le famiglie Si Radunava Per pregare Il rosario E per leggere Storia Dei standi Alla fine Tutti cantavano La mia parrocchia Era molto vicino Alla mia casa Così Potevo andare Alla messa Ogni giorno Sin da piccola Ero Molto Inserita Nella parrocchia Insieme Alle mie sorelle Più piccole Pacevo Parte Parte Al gruppo Delle giovani Insegnavo Il catechissimo A bambini Che si Preparano Alla prima Comunione Alcuni Delle mie Sudandese Diventero Suori Sin da Quando Era piccola Quando Era Otto Otto Anni Pensavo Di diventare Missionaria Missionaria Lavorando Nella vigna Del Signore Ogni anno I missionari Venivano Nella mia parrocchia E parlavano Del loro Lavoro Missionario Che Sovolgevano Nelle varie Parti Dell'India Il loro Esempio Di gioia E di Lavoro Mi Attirarono Anche Io volevo Essere Missionaria Molte persone In India Non Avevano Mai Sentito Parlare Di Gesù E io Sentivo Il desiderio Di Condividere L'amore Di Gesù Con Queste Persone Quando Desiderio Non Mi Hai Mai Lasciato Ogni Anno Molte Suore Venivano Nelle Parrocchie Invittavano Le Giovani Ad Entrare Nel Loro Convento Io Pregavo Il Signore Che Mi Facesse Capire Dove Mi Voleva Per Servirlo Nel Nel Frattempo La Mia Sorella Più Grande Era Andata In Italia Per Unirsi A Un Gruppo Missionario Delle Oblate Apostoliche Si Scriveva E ci Diceva Quello Che Le Oblate Apostoliche Facevo In Italia Il Loro Stile Di Vita Era Un Esempio Per Me Stendendo Questo Prega Pregai Pregai Molto Per Conoscere Se Il Signore Aveva Scelto Per Me Questa Vita Dopo Avor Terminato La Scuola Superiore Andrai Nell' Istituto Delle Oblate Apostoliche Laiche Consacrate Terminando Il Periodo Di Formazione Persi I Voti Di Persi I Voti Di Povertà Castita Ubbidienza E La Promessa Dell' Apostolato Insegnai Il Catechissimo E Lavorai Con I Giovani Nelle Varie Parrocchie Dopo Due Anni Nel 1982 Fui Tarsperita Negli Stati Uniti In California Poi In New York Nebraska E Di Novo In New York Il Mio Sogno Era Di Servire La Gente Nella Foresta Dell'India Ma Il Signore Mi Chiamo Per Servire La Persona Nella Grande America Nella Mia Vita Di Oblata Apostolica Ho Sperimentato La Cura Il Signore Ha Avuto Sempre Per Me Sono Sempre Grata Il Signore Alla Vergine Maria E San Giuseppe Per Avermi Chiamato A Questa Vocazione È Una Bellissima Vocazione E Viene Da Dall'India Immaginate Ha Lasciato Tutta La Famiglia Ha Lasciato Tutto Per Lavorare Come Ha Detto Pocanzi Nel Campo Del Signore Nella Vigne Del Signore Quella È Importante E Mai Ha Pensato Io Voglio Andare A Casa Voglio Ritornare Con Non ha pensato Mai Quello Si Ha Dato La Sua Vita Al Signore Alla Madonna E Continua Ancora A Farlo Consiglia Lei Ai Ragazzi Giovani 18 19 Anni Di Continuare A Fare Quello O Cioè Di Iniziare A Quello Che Lei Ha Fatto Senza Nessun Rimorso No Poco Poco Pochissimo Adesso Non C'è Tante Pocazioni Questo Non hai capito No Ripeto Io vorrei Che lei Parli Alla nostra Camera Per dire Ai giovani Che è una vita Felice Una vita Calma Ha capito Quello Che voglio Dire Che what I need you to tell them to the young people is that you have no heat feeling about this, that this was your life and you want to continue that you don't mind to see what's going on in the world, that you have dedicated your life to the world and you are happy, aren't you? Tell them. I chose this life to serve the Lord, so I took the vows for life I don't want to return what I promised to God because I said I will serve Him with all my life yes so I want to show to my vocation, this is my vocation, to serve the Lord e allora grazie, grazie, allora abbiamo un'altra obblanta Agnese Rus, che anche lei non è italiana non è nata in Italia però ha studiato in Italia parla l'italiano molto bello grazie per essere con noi oggi la mia vocazione è nata in famiglia sono nata e cresciuta in Slovenia durante il regime di Tito del regime comunista spesso sentivamo spesso sentivamo dei sacerdoti suori che dovevano lasciare i conventi sacerdoti che venivano incarcerati amici di mio padre che erano cattolici che venivano uccisi oppure incarcerati e mamma ogni sera la mamma ci diceva preghiamo per loro preghiamo perché rimanessero fedeli alla loro vocazione a quello che il Signore vuole da loro piano piano questa idea di dare tutto al Signore di essere fedeli al Signore è entrata nella mia anima ha cominciato a pensare a una possibile vocazione missionaria anch'io volevo andare in Africa per tanti anni e poi quello un po' l'ha lasciato la vocazione in un certo senso è nata con la visita di un sacerdote gesuita padre Remetz che aveva sposato i miei genitori quando lui è venuto dopo nove anni di dove è stato in carcere parlando con noi della sua vita non c'era nessuna amarezza c'era soltanto la gioia di aver potuto offrire qualche cosa la sua sofferenza per il Signore per la per la gioventù slovena che rimanesse fedele alla vocazione per cui la fedeltà al Signore e soffrire per il Signore erano tutti elementi che mi venivano mi passavano nella mente quando nel 1956 abbiamo raggiunto papà e la famiglia si è finalmente riunita ho capito anche l'importanza dell'esempio dei miei genitori i quali sono rimasti fedeli attraverso tutti gli anni undici anni di separazione nel frattempo sono morti due dei miei fratelli è morta la mamma di mio padre e la mamma di mia madre tanta sofferenza pure sono rimasti fedeli al Signore fedeli l'uno all'altro la vocazione l'ho sentita molto forte in una giornata d'estate quando avevo 16 anni in Slovenia ma penso anche in Italia c'era la tradizione di dire l'angelus a mezzogiorno e mentre dicevo l'angelus sentito veramente la Madonna che mi chiamava mi diceva cerca abbi il coraggio di seguire di dire il tuo sì di dirlo per sempre e l'ho sentito con tanta gioia e ho detto sì signore è il mio sì definitivo e ho chiesto alla Madonna di aiutarmi e come dicevo all'inizio era una vocazione che è veramente nata dalla famiglia anche dalla preghiera dei miei genitori quando nell'anno in cui sono entrata nell'istituto mio fratello più giovane anche lui aveva trovato la sua vocazione nel sacerdozio abbiamo chiesto la benedizione dei nostri genitori ce l'hanno data subito con tanta commozione con tant'amore e mamma ci ha detto ogni sera dalla prima sera del matrimonio prima uniti poi separati ma abbiamo sempre pregato insieme che uno dei nostri figli si consacrasse sono rimasta oblata sono contenta di essere oblata anche io ho 45 anni di oblazione apostolica quello che mi è impressionato è quello che ha detto lei alla fine che i suoi genitori pregavano ogni sera che uno di voi dei figli diventerebbe cioè darebbe la vita al Signore quello è importante quella è un'altra cosa carissimi amici che noi come genitori oppure come i nonni dobbiamo chiedere al Signore di aiutare i nostri nipotini i nostri figli è importante che loro sentano questa voce questa vocazione e non di no ma di continuare a pregare continuamente perché il Signore l'aiuterà gli darà un segno di diventare sacerdoti suorella un'oblate e io veramente sono contento oggi di essere con voi veramente mi avete dato una gioia immensa vogliamo salutare nuovamente la nostra carissima amica il programma che svolgo alla radio il titolo è questo il santo capolavoro dello Spirito Santo presento la vita dei santi e vedo cerco appunto di sottolineare come hanno risposto alle emozioni dello Spirito Santo e il programma è quale giorno lunedì mattina alle 11.30 cioè subito dopo il nostro programma di telemater perché ogni mattina ogni lunedì dalle 10 alle 11 abbiamo il programma telemater e poi vado in onda nuovamente martedì dalle 11.30 alle 12.30 io vi ringrazio veramente di vero cuore pregate per me pregate per tutti i nostri ascoltatori è importante carissimi amici un'altra parolina di Agnese vorrei dire a tutti i giovani che ci sentono non abbiate paura il Papa Francesco ce lo prima Giovanni Paolo San Giovanni Paolo II ce l'hanno sempre detto se il Signore vi chiama non abbiate paura riempirà la vostra vita con tanta gioia che noi possiamo testimoniare con la nostra vita tutti di tutti questi giorni allora io veramente vorrei salutare a tutti voi la nostra amica Giuditta Coccia Giovanna Piccioli Maria Cuti e Agnese Rus Rus veramente è stato un grandissimo piacere se il Signore vi benedica per il lavoro che fate per noi per tutti noi pregate continuamente carissimi amici vi ricordo che martedì prossimo domani potete ascoltare questo programma state in onda allora ogni lunedì dalle 10 alle 11 ed ogni martedì dalle 11.30 alle 12.30 sul canale 56 della Time Warner Cable a tutti a risentirci la prossima settimana ciao ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.